Musica Dalla ripulitura dei fiumi alla manutenzione dei boschi, dalla messa in sicurezza dei costoni di montagna franati, ai lavori di prevenzione contro nuovi smottamenti. Sono questi alcuni degli interventi che verranno realizzati nei prossimi sei mesi nelle zone montuose della Toscana colpite dalle alluvioni del 2014. Dopo le pressioni arrivate dall'Unione dei Comuni Montani e dai consorsi di bonifica, infatti la regione ha quasi triplicato il fondo di riserva per attivare interventi di ripristino dopo i disastri naturali che si sono registrati anche in montagna nel corso dell'anno. 28 milioni di euro per 220 differenti progetti. C'è una scommessa da parte degli enti perché gli enti hanno dovuto mettere le quote parti dell'IVA al 20% e soprattutto gli enti si devono prendere un impegno ufficiale che riescono a dare in affidamento i lavori, realizzarli e finirli non oltre il 30 giugno. Tempi strettissimi dunque per approvare i progetti, indire le gare e assegnare i lavori, ma l'occasione è ghiotta visto che si tratta di 28 milioni di euro che diventano 33 se si tiene conto dell'IVA e che saranno svincolati dal patto di stabilità. A gestire questi fondi saranno i consorsi di bonifica da nord a sud, le unioni dei comuni della Garfagnana, dell'Alta Versiglia, del Mugello, del Valdarno e della Miata e la provincia di Pisa. In principio non fu il verbo, ma il Mugello, le prime proposte che emersero per la costruzione di un centro sportivo viola, arrivarono dalla terra della Nencia da Barberino raccontata da Lorenzo dei Medici nel suo idillio rusticano. Un trade union tra storia e contemporaneità per la grande Firenze, nata dall'ingegno dei Medici e che il Mugello voleva ritrovare nelle tinte sportive della passione viola. La vocazione sportiva del Mugello e lo stupendo paesaggio offerto dal lago di Bilancino sembravano gli elementi perfetti per costruire un centro sportivo per la Fiorentina dei Della Valle, da poco saliti alla guida della società gigliata. Nel 2002 Salica aveva addirittura visitato due località mugellane, ma poi a spuntarla sembrò incisa. Anche perché nel frattempo Manuele Meme Auzzi, sindaco di Incisa dall'85 all'87 e dal 95 al 2004, oltre che esponente di primo piano dei DS Toscani, puntò ai piedi. Troppa grazia sarebbe stata per il Mugello la possibilità di mettere una nuova perlina nella collana fatta di lago di Bilancino e autodromo del Mugello. In più, logisticamente, Incisa sembrava piacere maggiormente più vicino a Firenze, accessibile tramite treno e autostrada. Nell'estate del 2003, così, Della Valle comprarono da un imprenditore pratese ben 130 ettari per un costo di 5 milioni di euro. Il campus Viola era già disegnato, doveva svilupparsi su 7500 metri quadrati pari a 21.000 metri cubi di volume, prevedendo un centinaio di posti letto, palestra, piscina, quattro campi da calcio a misura regolamentare, due campi da calcetto, oltre al reception, bar, self-service, negozi di gadget e prodotti gastronomici della zona. Al comune di Incisa, addirittura, la Fiorentina avrebbe versato 80.000 euro da investire nelle opere necessarie al paese. Insomma, il plastico, da qualche parte, è coperto di polvere, ma dovrebbe esserci ancora. Dovrebbe, perché, un po' come per il progetto dello stadio, quando si parla di centro sportivo, si sfogliano le pagine di un romanzo con più capitoli. Lega Ambiente Toscana non ritenne adatta la zona di Incisa, perché classificata fra le aree con prevalente funzione agricola. In consiglio provinciale, Rifondazione Comunista chiese garanzie per le aree boschive della zona. Con l'avvicendamento tra primi cittadini ad Incisa, la questione passò da Auzzi a Giovannoni, che riuscì a superare, anche per volontà della popolazione incisana, le perplessità di Lega Ambiente e Rifondazione Comunista. I lavori sembravano pronti a partire nel marzo 2006, ma forse anche per le resistenze della cittadella permanente di Loppiano, fondata da Chiara Lubic nel 64 e appartenente al Movimento dei Focolari, gruppo laico nato dalla Chiesa Cattolica, la frazione di Incisa non vide mai sorgere il centro sportivo Viola. Di lì a poco venne a mancare anche Auzzi e così il progetto si arenò definitivamente. Si parlò poi di Pontasseve ed altre località, ma la Fiorentina alla fine decise di procedere all'ampliamento dei campini, che fu terminato nel 2010. Oggi arriva l'ora del sindaco Casini di Magno Arripoli, pronto a proporre Villa Cedri, ex tenuta di Vittorio Cecchigori, ormai abbandonata, e i suoi 10.000 m2 alla Fiorentina. 12 anni dopo non è sorta nessuna pinetina, Vinovo o Milanello Gigliata. La Fiorentina cerca ancora casa e il percorso del sindaco Casini per supportare la sua proposta sembra lungo e difficile. Buon lavoro! Grazie per la visione!